Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Clash of Clans Oggi vi mostrerò il nuovo aggiornamento, non è vero un cazzo Adesso andremo a fare qualche partita e basta Nel frattempo che si carica Eeeh, è carico, eccoci qua Eccoci qua, nel nostro carissimo villaggio Minghia, non l'esercito, e che cazzo vogliamo attaccare? Allora, a destra attaccate Abbiamo a destra, aspetta, fatemelo riaddestrare A destra, ok, andiamo ad attaccare su quest'altro Andiamo E cerchiamo qualcuno da sfregiare Poi mi capitano questi qua che io non li so fa Però tenteremo di vincerla Mettiamo qua, qua, e qua Mettiamo uno da qua e E andiamo da qua, va Attacchiamo, attacchiamo, attacchiamo Ok, le guardie sono distrutte Aspettiamo un po' prima di riattivare Ok, riattiviamo adesso Dai macchine da guerra Sfondaci il culo Sfondaci Sfondaci il municipio La macchina da guerra E la moto, vabbè Settecento miliardi di bomba ho preso 56% Due stelle Potremmo vingerla No, ok 6% Vediamo quanto caspiterina ha fatto Vittoria Grandi ragazzi Dove sono l'acqua Storono Ci vai potenzia Aspettiamo E poi riattachiamo Nel frattempo non possiamo attaccare Perché la macchina da guerra Sta in guarigione Ok, attacchiamo Ok Attacchiamo questo Attacchiamo 1, 2, 3 1, 2 3 1, 2, 3, 4 E video E la madonna Vabbè E iniziamo A attaccare Da qua Iniziamo adesso La macchina da guerra Macchina da guerra Andicappata Ragazzi Scrivetemi sotto nei commenti Se solamente io Ho la macchina da guerra Più stupida del mondo Beh, almeno 2 stelle Ce li portiamo a casa Dai che forse Riusciamo ad attivarla Eh sì Dai Grande E ok Finita L'abbiamo fatto Un buon 59% Vediamoli quanto ha fatto No 82 Mi sta andando un po' a rilento Allora E dai Un po' a rilento Vai che stiamo attaccando bene E dai venite qua Vabbè vaffanculo Ah no vieni qua E che cazzo fai Sta macchina da guerra Oh ma solamente io ce l'ho eh Che culo facevo qua il pelo Me l'ha distrutta E ragazzi è 62 Vediamo un po' lui Vittoria grande Va bene ragazzi Penso che l'appuntamento di oggi Può finire qua Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Condividete a tutti i vostri amici E ci vediamo nel prossimo video Ciao